si è chiuso il primo turno di giugno dei laboratori estivi a casa zanussi dedicati all'arte alla robotica alla natura e alla scrittura giapponese due gruppi divisi in grandi e piccoli con bambini dai 6 ai 12 anni si sono cimentati in diverse attività che li hanno impegnati sia al mattino sia al pomeriggio con pausa pranzo nella mensa del centro culturale nel laboratorio con me abbiamo proprio scoperto e giocato con l'argilla quindi abbiamo fatto un viaggio partendo da casa abbiamo costruito dei fari con delle piccole luci che potessero illuminare il nostro viaggio poi siamo partiti hanno costruito delle navi di vario tipo insomma ne vedete qualcuna qui dietro per portarli in posti lontani e poi hanno immaginato un'isola un'isola che potesse rappresentare uno spazio di avventura e di scoperta e adesso stiamo tornando indietro seguendo un animale fantastico come trovi i bambini dopo tanti mesi dove la socialità è stata così sacrificata è una bellissima domanda questa anche con l'altra mia collega federica pagnuco abbiamo proprio ragionato su questo quindi come poter dare ai bambini uno spazio di uscita come poter uscire per questo per questo gruppo abbiamo scelto proprio l'avventura come tema e il viaggio io ho trovato che c'è molto bisogno di relazione c'è molto bisogno di incontrarsi di avere spazi di scoperta fra di loro e che questo diventa poi crescita c'è bisogno di tornare a giocare all'aperto di immaginare le cose che si vedono attorno a noi e farle diventare differenti narrazioni secondo me sempre di più c'è bisogno di ridare qualità a quelle cose semplici che in questo periodo abbiamo un po dovuto lasciare in sospeso che però sono un grande nutrimento proprio per l'anima del bambino in questo laboratorio abbiamo approcciato la calligrafia shodo e la tecnica del suminagashi allora la calligrafia shodo è un modo per scrivere gli ideogrammi in cui i bambini possono trasferire il proprio stato d'animo abbiamo creato l'ideogramma dell'eterno che in sé ha tutti i segni che ci permettono di scrivere gli ideogrammi nel suminagashi che è l'arte degli inchiostri fluttuanti abbiamo creato delle tavole dei segnalibri dove vengono impresse anche qui lo stato d'animo di chi lo fa di chi lo esegue e poi reinterpretate le varie forme le varie ombre che l'inchiostro trasferisce nel foglio ho visto dei bambini molto stimolati a recepire i concetti e nello stesso tempo però anche a condividerli con i propri compagni questa spinta più forte adesso della condivisione rispetto a tempistiche precedenti in cui erano più singoli ma l'arte giapponese può essere canale di espressione di queste tensioni che hanno avuto assolutamente sì anzi è proprio un veicolo per esprimere il l'interno il proprio essere bambini che hanno anche difficoltà ad esternare i propri sentimenti lo sciodo la calligrafia l'isominagashi aiuta a portare fuori quello che dentro custodisce il bambino a a